Tutti i dispositivi di telefonia mobile in cui è installato SCP-1471 devono essere confiscati e analizzati per eventuali collegamenti con altri apparecchi potenzialmente interessati. In seguito, ai dispositivi colpiti verrà rimossa la batteria, gli sarà assegnata una denominazione e verranno sistemati nell'unità di contenimento 91 nel sito di ricerca 45. Devono essere monitorati tutti gli app store online per prevenire vendite accidentali di SCP-1471. I dispositivi sospetti devono essere presi di mira con un malware in grado di autocaricarsi per poterli disattivare fino a quando non potranno essere sequestrati da degli agenti sul posto. SCP-1471 è un'applicazione gratuita di 9,8 MB per dispositivi mobile chiamata Malo versione 1.0.0 disponibile negli app store online. Gli sviluppatori di SCP-1471 non vengono riportati ed è in grado in qualche modo di evitare il processo di approvazione delle applicazioni e arrivare direttamente alla distribuzione. SCP-1471 è anche capace di evitare la rimozione da parte di altre applicazioni Program Manager. Dopo che SCP-1471 è stato installato, non viene creata alcuna icona a collegamento per l'applicazione. SCP-1471 inizierà poi a inviare le singole immagini attraverso messaggi di testo, ogni da 3 a 6 ore. In ogni immagine sarà presente sullo sfondo o in primo piano SCP-1471-A. SCP-1471-A è una grande figura umanoide, con un teschio simile a quello di un cane e capelli neri. Durante le prime 24 ore seguenti l'installazione di SCP-1471, il dispositivo riceverà delle immagini scattate in luoghi comunemente frequentati dal proprietario. Dopo 48 ore riceverà immagini scattate in luoghi in cui la persona è stata di recente. Dopo 72 ore, il dispositivo riceverà immagini della persona in tempo reale, con SCP-1471-A che appare nelle sue immediate vicinanze. Coloro che sono stati esposti a più di 90 ore di queste continue immagini inizieranno a vedere per brevi istanti SCP-1471-A con la coda dell'occhio, su superfici riflettenti o in ambedue i modi contemporaneamente. Continuare l'esposizione a SCP-1471 dopo questa fase causerà visualizzazioni irreversibili e prelungate di SCP-1471-A. Gli individui in questo stadio hanno riferito che avvengono dei tentativi periodici da parte di SCP-1471-A di comunicare visivamente con loro, ma non riescono né a capirlo né a comprendere il perché di tale azione. Al momento, l'unico metodo conosciuto per neutralizzare l'effetto di SCP-1471 consiste nell'eliminare l'esposizione visiva del soggetto a queste immagini prima che siano passate 90 ore dall'installazione. Pino ad oggi non è stata segnalata nessuna apparente azione ostile da parte di SCP-1471-A. Non sentirai mai più quella spiacevole sensazione di solitudine. Malo è un'eccitante esperienza interattiva che ti coinvolgerà e ti intrigherà. L'ansia delle situazioni sociali può essere snervante, ma dopo solo poche ore con Malo scorderai presto quel doloroso senso di disagio. Entra a far parte della nuova tendenza che sta diventando rapidamente il nuovo sostituto sociale. Ricorda, più partecipi, più Malo ti coinvolgerà. La tua esperienza dipenderà completamente da te, assolutamente senza pubblicità. Buon divertimento! Ho avuto paura quando l'ho visto per la prima volta. Dopo è successo esattamente come mi hai raccontato, i messaggi, le immagini, vederlo dietro a ogni angolo. Ero così giovane, chi non sarebbe impazzito? Per allora si era abituato alla creatura che lo stava seguendo. Non che se ne sarebbe andata, indifferentemente da quanto avessi chiesto, supplicato o provato a corromperla. Sapeva che la migliore e unica soluzione sarebbe stata solamente abituarsi che Capone fosse lì. Almeno avrebbe avuto il conforto di sapere che non stava impazzendo. Credimi, William. Conosco molte persone che hanno reagito allo stesso modo. La paura è una reazione all'ignoto più comune di come credi. Questi casi non erano estremamente comuni, ma erano comunemente noti. Non è neanche che ho paura di lui ormai, voglio dire, mi spaventa quando lo vedo alla mattina. Non penso mi abituirò mai a quello. È solo la connotazione negativa che ha. Lo so che ce l'ha, ma è successo due anni fa. So che è difficile per te, specialmente con la tua ombra. Ma devi andare avanti. La nostra sessione è quasi finita. Abbiamo fatto un buon progresso, William. Voglio che tu faccia qualcosa per me quando torni a casa. Hai compiti o qualcosa? Vi ho fatti tutti in pausa. Ottimo. Quando torni a casa, voglio che tu pensi alla tua prima esperienza e scrivi quello che ti senti di raccontare. Va bene? Sì. Grazie ad avermi ricevuto. Non era un viaggio troppo lungo dall'ufficio della dottoressa a casa. Cinque, possibilmente dieci minuti, c'era un treno. Vedeva sempre la creatura dallo specchietto retrovisore mentre guidava, viaggiando nel sedile posteriore. Sembrava innocente, in un modo suo alieno, salutando William quando lo vedeva. Nonostante tutto, William si ritrovava spesso a parlare con lui, come uno parlerebbe con un cane o con un gatto della loro giornata quando sono soli. Sembrava ascoltarlo quando parlava e, dopo un po', ci avrebbe giurato che capiva. È difficile da dire con una faccia così, quindi tutto quello che c'era per capirlo erano vari movimenti della testa e i saluti. E anche lì ha dovuto insegnargli come salutare. Almeno so che sei interessato. Lascia lo zaino vicino alla porta, va in cortile, saluta Capone dallo specchio, frigorifero, bevanda, sedia, crollo. L'art in pomeridiana di William era più meccanica di quel che dovrebbe essere. Ripensò alla sua sessione con la dottoressa Brains. Voleva che provassi a riprendere l'esperienza di quando l'ho visto per la prima volta, eh? Borbottò William mentre prese un paio di fogli di carta e una penna. Pezzo per pezzo mise insieme la sequenza di eventi che portarono fino ad adesso. Ho avuto Capone da quando avevo 15 anni. Mi ricordo che mia sorella ventenne, Sara, aveva menzionato un'app che aveva scaricato prima dal tavolo da pranzo. Non aveva idea di come lo facesse, ma azzardò un'ipotesi che ti traccia il GPS del tuo telefono e ti manda immagini dei posti in cui sei stato con un mostro veramente carino messo sulla foto per farlo sembrare come se ti stesse seguendo. Non sembrava così strano. Mi ricordo che Google Maps poteva prendere una foto decente del suolo. Quindi basta aggiungerci Photoshop e avresti un buon trucchetto. Inoltre, sapevamo che non poteva essere un virus. L'App Store controlla ogni app per robe del genere prima di venderla. L'unica cosa che mi è sembrata legittimamente strana al tempo era che fosse sia gratis che senza pubblicità. La sua spiegazione dell'app mi è sembrata abbastanza figa. Quindi ho chiesto a Sara di aiutarmi a scaricarla nel mio telefono. Mi ha detto che, anche se il mio vecchio cellulare a conchiglia di seconda mano avesse qualcosa come un App Store, probabilmente non aveva malo. Però non l'ha fermata dal controllare. Sara era una brava sorella. Avrebbe veramente potuto dirmi di lasciarla stare, ma trova sempre del tempo per me. Facendomi il pranzo al sacco, giocando con me, portandomi a vedere film vietati ai minori per cui ero chiaramente troppo giovane. Sono stato fortunato ad avere lei come tutrice legale quando i nostri genitori se ne sono andati. Era troppo giovane per capire il tutto quando è successo, ma mamma e papà sono morti da una collisione diretta con il guidatore ubriaco. Sara si è presa cura di me come tutrice legale finché non me ne sono andato all'università. Dio sa dove sarei se non l'avesse fatto. Dopo un po' di stuzzicamento ha trovato l'app, il che era una sorpresa per entrambi. Era ovvio che il mio telefono non aveva alcun tipo di GPS, ma nessuno dei due ci ha pensato fino a molto, molto tardi. Poco dopo ricevetti la mia prima immagine. Non capirò mai il modo in cui Sara vedeva il mondo, se quella fosse la sua idea di carino. La foto era stata scattata nel cortile della mia scuola, con la creatura che avrei presto chiamato Capone seduta su una delle panchine. Potevi vederla a malapena, ma era lì, coperto da una pelliccia nera arruffata, con i suoi artigli simili a coltelli, una serie di occhi puramente bianchi e fatui, e quella faccia, che era semplicemente un teschio di una specie di grande creatura, guardandoci direttamente con quel sorriso largo e lupesco. Ho ridato il telefono a Sara, dicendole quanto fosse terrificante, di che non volessi più messaggi. Lei mi ha semplicemente colpito la spalla, dicendo, oh, non fare il bambino, è troppo carino, guarda com'è contento di incontrarti. Ho riguardato la sua faccia, il suo ghigno largo in particolare. Devo ammetterlo, ci ho riso sopra. È stata solo l'assoluta inesattezza di quell'affermazione che mi ha fatto ascoltare la prossima. Sono sicura che inizierà a piacerti eventualmente. Sai cosa? Se riesci a sopportarlo per un'intera settimana, andremo a vedere quel film che volevi vedere. Se ancora ti dà incubi, lo cancelleremo. Se finisce per piacerti, ci rideremo su dopo. Ci stai? Ho guardato di nuovo l'immagine. Sembrava che ricevere una foto ogni tanto era il massimo a cui sarebbe arrivato, e, riguardandolo col senno di poi, l'avrei probabilmente tenuta per quasi niente se l'avesse veramente voluto. Quindi ho accettato. Sara era ectastica dopo quello. Mi ha garantito che non me ne sarei pentito mentre mostrava alcune delle sue immagini. Ne aveva solo tre finora, una al suo ufficio, una al barco e un'altra nella strada dove vivevamo. Ogni immagine contenente la sua entità, chiaramente visibile. Sarò sembrato nervoso qualcosa, perché mi ha consigliato di chiamare la mia come ha fatto lei con la sua Cassandra. Ci ho pensato per un po'. Lascia però che chiarisca una cosa. perché sembra che venga fuori ogni volta che lo dico a qualcuno. Non ho chiamato il mio malo capone per l'incidente con i miei genitori. Non sapevo neanche che l'arresto di mia mamma e mio papà avesse coinvolto l'alcol a quei tempi. L'ho chiamato da una lezione di storia a scuola che ho trovato divertente, dove la paura delle persone ha preso in sopravvento e, come l'ha messa la mia maestra, ha finito facendo più male che bene. Era inteso come un promemoria che non dovrei fare lo stesso errore. Ci ho visto un po' più chiaro in questa situazione dopo avergli dato un titolo parodico e ho pensato che non sarebbe stato così male. Sono andato a letto e la mia vita normale ha continuato solamente per un po' di più. Ho continuato a ricevere immagini di capone per un po', seguendo la mia scuola, alla fermata del bus, la mia via, praticamente ovunque sia andato. Non è stato fino al terzo o quarto giorno quando sono stato chiamato fuori dalla classe. Pensavo di essere nei guai per qualcosa, anche se non sapevo cosa, ma, appena ho visto Sara, quella sensazione è stata suffocata. Sembrava molto nervosa. L'istante in cui mi vise ha strattonato il mio braccio e mi ha portato in macchina. Sara non aveva per niente una bella cera. Continuava a fare domande su capone, cose come se l'avessi visto o se avessi ricevuto foto da lui con me nelle immagini. Non avevo controllato niente quel giorno, ma quando ho controllato ce n'erano due. Mi ricordavo esattamente dove e quando sono stati inviati quei messaggi perché, durante l'invio, mi sono fatto una nota mentale di aver ricevuto qualche messaggio da capone. Sono stati mandati subito dopo essere stati scattati. Sara sapeva che eravamo seguiti da qualcosa. Probabilmente non aveva idea di cosa fossero e non avevo idea di come lo facessero, ma sapeva che sapevano dove vivevamo. Non riusciva a capire come cancellarla. Ha detto di aver provato di tutto, ma non è riuscita a trovare una maniera per toglierla. Non riusciva neanche a trovare dove era finita l'app. Non ero neanche sicuro di cosa avremmo pensato di fare, ma ancora prima di trovare un piano d'azione ho ricevuto un altro messaggio. Sara si è bloccata e mi stava fissando, come per dire non guardarlo. Se non l'avessi fatto, adesso avrei avuto una vita seminormale. Sarebbe finito in tutti i giornali della settimana e l'avremmo saputo. Ma l'ho fatto. Ho sbloccato il telefono ed eravamo lì, semplicemente seduti in quel posto, con quell'espressione terrorizzata nelle nostre facce. La foto è stata chiaramente scattata dal cofano di una macchina in movimento, dandoci una chiara vista di cosa ci fosse dietro di noi. Occupava la maggior parte del sedile posteriore e prevaleva su di me. Ci siamo girati entrambi, preparandoci ad urlare alla mostruosità dietro di noi. Ma, quando l'abbiamo fatto, il sedile era vuoto. Non sapevamo cosa stesse succedendo o cosa farcene, ma sentivamo che l'unica cosa da fare era scappare via, abbandonando la macchina. Abbiamo lasciato la macchina frettolosamente, corso per il resto della strada verso l'appartamento e chiuso la porta dietro di noi. Ci siamo chiusi in bagno e abbiamo aspettato. Siamo semplicemente stati lì, anche quando ricevevamo un messaggio da Cassandra o Capone. Sara li avrebbe urlato contro, chiedendogli perché ci stessero seguendo e implorando di lasciarci stare. Ci sentivamo indifesi contro di loro. L'unica cosa che sentivamo di poter fare era solamente stare seduti in bagno e sperare che se ne andassero. Sentivamo la stanza come il nostro unico e sicuro paradiso finché siamo stati esposti a loro per troppo tempo. Sara ha iniziato ad andare in panico, dicendo che continuava a vederne uno di loro dietro di lei. Io non lo vedevo però. Ero più concentrato a calmarla, dicendo che forse non erano veramente lì, dal vedere Capone nello specchio. Ho convinto Sara che dovevamo lasciare la stanza per necessità. Non potevamo restare nell'appartamento per sempre e se avessero voluto prenderci, l'avrebbero già fatto. Abbiamo chiamato la polizia e eccoci qui. Entrambi abbiamo trovato aiuto, ma io sono stato quello fortunato. I casi di ognuno erano diversi in termini di interazione, ma, per me, Capone era sempre nello specchio in qualche cosa riflettente abbastanza larga da farlo vedere. Era prevedibile e potevo sempre trovare modi di bloccarlo quando ne avevo bisogno. Ho imparato come aspettarmi Capone e dopo un po' mi ci sono affezionato. Avevo una tenda improvvisata che avrei tirato ogni volta che non volevo vederlo, ma ho iniziato a usare quella tenda sempre di meno a mano a mano che passava il tempo. Capone sembrava sempre provare a interagire con me, anche se non capivo cosa voleva dire la maggior parte delle volte. Ho iniziato a salutare Capone con un semplice cenno quando passavo davanti a lui nello specchio del salotto e, eventualmente, ha iniziato a ricambiare il saluto. È un po' diventato un compagno costante per me e mi sono regolato a Capone come lui si è regolato a me. Il mio caso non era severo come quello di Sara. Vedeva Cassandra ovunque guardasse, dietro a ogni angolo, giusto fuori vista, sopra di lei mentre dormiva. Sara si è tolta la vita due anni fa. Volevo incolpare i malo, ma non posso. Seguire le persone che guardano i loro messaggi è solamente quello che fanno. Ora, ogni volta che vedo Capone, mi ricordo cosa ho fatto in macchina quel giorno. Sapevo che non avrei dovuto vedere quel messaggio. Se non l'avessi fatto, lei sarebbe ancora qua. Erano passate quasi quattro ore da quando William aveva iniziato a scrivere, ma si era quasi sentito alleviato. Non aveva mai detto questo a nessuno così nel particolare. La maggioranza di quel che era successo era stato tenuto tra lui e Capone. Ha alzato lo sguardo alla creatura nello specchio dall'altra parte della stanza per qualche secondo, mentre dava quel vecchio cenno familiare. William restò silenzioso per un minuto, fissando Capone. E poi tornò ai suoi fogli. Si sentiva come se dovesse fare un ultimo punto. Ma comunque, come avrei fatto a saperlo? Non so chi ha fatto i malo o perché. Non so neanche se qualcuno ha realmente fatto l'app. Molte cose come quella sono state create naturalmente, o è stata data una specie di anomalia per puro caso. Avrebbe molto senso se ci fosse un qualcosa di fisico a cui dare la colpa, ma non c'è niente che posso trovare legittimamente. Niente sui malo, niente su di me. Solo sul caso. Niente sui malo. Grazie a tutti.